3, 2, 1 bello a tutti ragazzi, io sono il sole da Santa Fox e siamo tornati all'interno della Minecraft Fox ero qua in stand by giusto per sentirmi un attimino meglio con me stesso allora tiriamo un attimino le somme, l'ultimo video non mi è piaciuto ok, era un po' che non ne facevo ho preso un po' così dalla cosa questa porta devo dirvi la verità ragazzi a parte che mi ha fatto dannare ma non mi piace l'ingresso è lento fermato una cosa orribile, però adesso chiudiamola volevo fare qualcosa di diverso quindi penso proprio che lo farò qua, quindi iniziamo a prepararci i nostri materiali e più che altro anche il nostro spazio ok, quindi tiriamo via tutto ciò che può effettivamente al momento essere superfluo questo era meglio toglierlo con la zap ok, io devo scavare sei blocchi quattro cinque così potrebbe già piacermi non abbiamo neanche due di qua poi vediamo di ricostruire nell'eventualità il tutto ti ho pure questo allora ok, allora andremo a fare una di quelle porte classiche quelle che si aprono verso destra e verso sinistra quindi più classica di così non si può però almeno avremo un bel ingresso non dovrebbe darci problemi per quanto riguarda le aperture con i pistoni appiccicosi e allora ho detto perché non testarla direttamente con l'ingresso principale che avrebbe un attimino più senso un qualcosa di effettivamente largo, vistoso e piacevole da vedere poi si potremmo modificare anche qua allora contiamo uno, due, tre quattro, cinque sei, sette otto quindi dobbiamo scavare sei blocchi uno, due tre quattro cinque e sei e fino adesso ci piace tutto semplice tutto bello guardate che a questo tempo qua ho già le schermate pronte per vedere come lavorarlo poi iniziamo a scavare quattro blocchi interni ok recuperiamo tutti i materiali che ci servono poi scaviamo in avanti quattro blocchi uno due tre e quattro sempre per due di profondità quindi uno e due nel frattempo butto sempre un occhio sul progetto perché non si può mai sapere abbiamo una shulker sì abbiamo una shulker con noi mettiamola non ho spazio nella shulker non è possibile mettiamoci questi togli ste scalette dovremmo aver liberato qualcosina adesso eh e tra di sì ok riprendiamoci questi fantastico adesso è molto easy molto easy signori eh cioè problemi pari a zero dovrebbero essere qua iniziamo a piazzare tutta redstone uno due tre quattro cinque sei sette otto di redstone giusto poi mi servono due torce di redstone che ce le ho qua sono quasi alla fine eh una non proprio qui la vorrei mettere qua perché mi piace di più uno e due fatto poi eh i blocchi che noi scegliamo in questo caso continuiamo a usare un attimino ciotolo classico ora mettiamoglielo sopra uno due ed è perfetto poi qua sopra andiamo a mettere altra redstone perché tanto i ciotoli non ci servono più uno e due potremmo essere praticamente a posto adesso possiamo chiudere il tutto ottimo usiamo sempre il classico potolone e adesso se non mi sbaglio abbiamo i nostri pistoni no tutti appiccicosi eh fermi tutti ok abbiamo fatto i nostri pistoni appiccicosi e li piazziamo qua adesso da quel che io sto dovrebbero ok attivarsi senza alcun problema ok se non mi sbatti in faccia è meglio aspettate no c'ho il terrore che mi arriva qualche creeper ok in questo caso come funziona dovrei mettere un blocco qua sopra se non vado errato vediamo se passa il segnale della redstone un blocco qua se non vado errato ti devo mettere dietro una torcia o forse qua sopra ok fermi tutti eh tolgo questo e metto invece la torcia la torcia chiude il segnale e va bene se no al massimo lo facciamo alto 2 poi per il terzo vediamo come combinarla e se io piazzo invece qua sulla torcia non fa niente interessante allora facciamo così per il momento lasciamolo alto 2 non complichiamoci la vita io già facendo il terzo mi stavo complicando la vita più di quanto dovessi ok ripetiamo da quest'altro lato quindi un pistone due pistoni perfetto io ho scelto il corallo corallo si va bene il quarzo per chiudere il putto ok adesso per chiudere io lo farei con il legno con le nostre belle asti di quercia così almeno siamo tranquilli restiamo in tono più che altro non ho paura ora che mi arrivi qualche criver a farmi qualche sorpresa adesso aspettate un attimo perché io qua dovrei chiudere anche così ok e così va bene diamo una piccola anche illuminazione al tutto questi due vediamo un attimino come fare dove potrei piattarne vediamo una qua e una qua così già e qualcosa andiamo a prendere un attimino ah il cavallo finalmente è salito ce l'hai fatta ciccio allora prendiamoci la nostra leva giustamente è finita l'inventario a caso permesso grazie allora se io la leva la vado a mettere qua non dovrebbe passare il segnale vero ecco maledizione però fatemi togliere i dubbi perché ce li ho eh ok può essere che casomai va piazzata qua no se no l'unica oh cocchio io non volevo metterla pressure era questo il fatto vediamo un po' io qua provo a togliere questa e fino qua va tutto benissimo ok non c'è nessuno la leva qua non la voglio mettere perché si vedrebbe dietro che ha aperto però se io gli piazzo questa non va lo stesso vero ok allora facciamo così sarà per ora un piccolo test una piccola prova per vedere se effettivamente il tutto si apre cioè gli zombie spero non la aprano la pressure questa è la mia unica paura allora una qua e una qua non fanno tantissima luce però sono esteticamente belli da vedere sì dai ci può per il momento ci può stare è una bozza adesso io mi dovrei fare delle pressure le pressure come si fanno che non mi ricordo vabbè tanto lo troviamo dovrebbero essere tre in linea no a due insomma ce ne quattro ce ne parla più ecco forse l'unico problema di questa porta è che mi mette la pedana a pressione per aprire se la metto di qua funziona lo stesso grandioso allora piazziamo anche di qua il nostro legno a coprire però poi dobbiamo mettere un po' di più oh mio dio mira aiutami tu non puoi no non puoi capisci che dovresti andartene questo mi fa capire che gli zombie potrebbero passare ma vabbè sono dettagli quelli poi si aggiusta il tutto ok vediamo un po' così è chiuso ok quindi uno due uno due uno e due e poi uno e due così non si dovrebbe vedere nulla sopra di qua ho bisogno di una slab aspettate però forse ce l'avevo qua dentro no non ce l'avevo qua dentro una slab forse ce l'ho qua dietro non fatemi ricreare 60.000 slab devo ricrearmi 60.000 slab ne serve una vai a farlo no lui te ne fa 6 ne pigli 6 giustamente adesso l'angolo qua è buio è ancora un po' così casinato ma va bene va bene cercamo di questo cavallo mi fa morire di infarto un giorno all'altro una qua e una qua così iniziamo a illuminare fuori questa zona io direi che momentaneamente ci può effettivamente piacere te ne va momentaneamente ci può piacere è un ingresso andrà riportato anche da questo lato dove farò qualcosina poi per far passare i villici ma va bene va bene devo solamente capire come comandare la redstone per mettere una leva ma per il momento mi sento alquanto soddisfatto anzi guarda giusto per io ne metterei una qua di cosa e una qua ok così mi sembrano anche più più carine tutto più illuminato e più bello si ci può stare a me piace nel caso lasciatemi un voto e fatemi sapere voi cosa ne pensate specialmente se sapete trattare quella redstone fatemi sapere se sapete come modificare questa cosa quindi togliere la pressure e mettere effettivamente un contatto un qualcosa che mi faccia funzionare il tutto ma ragazzi io direi che nel frattempo per il video di oggi può bastare ci vediamo domani con un altro video a la prossima